bella a tutti ragazzi sono da Mirko ben tornati su gameplay channel e su citizen on mars prologo allora ragazzi quest'oggi ci proviamo il prologo appena uscito di questo nuovo city builder in arrivo prossimamente e speriamo che sia promettente lo spero veramente perché insomma sapete quanto amo i city builder e anche quanto amo i giochi spaziali quindi insomma le due cose insieme mi fanno sempre impazzire quindi vediamo un attimino la campagna la prima colonia ragazzi per il momento per il momento il gioco quantomeno il prologo quando è per l'appunto solo in inglese o in polacco quindi direi che fra le due preferisco decisamente l'inglese poi non so come al solito la versione definitiva se per l'appunto sarà anche in italiano o meno spero come sempre di sì allora qua abbiamo la grafica vabbè qua ci fa vedere sempre le solite cose insomma le solite finestre e va bene master generator ok e il cuore insomma della tua colonia produce acqua che chiaramente poi a sua volta cioè produce ghiaccio scusate che immagino automaticamente produrrà anche acqua e tutto il resto perfetto perfetto quindi allora qua abbiamo credo per l'appunto il ghiaccio forse vabbè però vediamo il main generator lo dobbiamo mettere qua a ok quindi ci fa vedere le risorse che va a catturare andandolo a costruire qua perfetto perfetto e qua l'abbiamo messo ok poi dobbiamo iniziare a produrre i materiali di base per avere insomma i primi lavoratori nella colonia quindi dobbiamo posizionare tre worker quarters quindi iniziamo a prendere questi qua ok e li andiamo a mettere ma devo metterli nella bolla no no non credo non credo che io debba metterli dentro la bolla anche perché non mi ci stanno quindi quindi immagino di no immagino di no allora iniziamo a metterne uno qua iniziamo a metterne due e qua non me lo fa mettere perché c'è la roccia lo mettiamo qua ok perfetto i lavoratori adesso sono pronti ok ok ovviamente non c'è ossigeno cibo e acqua se non c'è ossigeno cibo e acqua ovviamente la popolazione non può lavorare ma penso non posso neanche sopravvivere immagino va bene quindi iniziamo a mettere le cose per le fibre quindi vediamo un attimino eccolo qua che è il process in plant va bene per cui anche qua si mi dà solo due quindi lo mettiamo per così ok e da qua praticamente abbiamo quello che credo sia il rame ok perfetto perfetto sì quindi la fibra di rame insomma benissimo benissimo dove sono i miei worker sono qua ok ma se sono bagati qua vabbè vediamo cosa fanno vediamo un attimino che fanno ok qua dobbiamo farne praticamente eh no fiberglass però come dice la fibra di vetro perché di questa colorazione sembrava rame eh vabbè ah comunque ne devo costruire due perfetto scusate non avevo visto quindi lo mettiamo qua e ok così ne abbiamo due perfetto va bene va bene poi ci serve energia per le nostre strutture eh strutture va bene eh quindi dobbiamo mettere il solar penso i pannelli solari immagino quindi andiamo a prendere questi qua esatto andiamo a mettere i solar li mettiamo così li mettiamo uno come ci dice lui e lo mettiamo così perfetto perfetto ok va bene ok quindi qua siamo posti dobbiamo produrre praticamente eh venti eh di fibra di vetro insomma da come da come è scritto ok per cui lasciamoli lavorare adesso non so se c'è modo ah next day ah quindi abbiamo sono passato al giorno successivo di conseguenza credo credo di sì penso di sì eh però vediamo allora qua chissà se posso costruire degli altri alloggi per i nostri worker ok sì possiamo mettere un altro qua ne metterei anche un altro qui ok e ne mettiamo anche un altro qua vai così almeno così almeno siamo a posto allora per adesso siamo qua in questa sorta di di cratere di di questo avvallamento su marte vediamo poi man mano ehm come ci potremo spostare perché anche qua sarà interessante capire questa cosa eh va bene posso passare al giorno successivo perfetto abbiamo 20 su 20 ok e qua abbiamo finito il livello perfetto facciamo il livello successivo dove dovrebbe mostrarci cose un attimino più avanzate eh adesso qua ovviamente a missioni quindi vedo che ci resetta tutto ok per cui devo mi fai ricostruire tutte le stesse entiche cose ok però questa volta con una eh costruzione libera diciamo ok sto guardando dov'è che magari mi andava a produrre di più però l'unica mi sa che è qua eh 0 3 0 0 eh sì no mi sa che l'unica non so se riesco a beccarne due però qua può un casino metterlo no vabbè niente lo mettiamo qua senti ok lo mettiamo qua lo mettiamo qua allora quindi il quello per le fibre di vetro fibre di vetro lo possiamo mettere vediamo se riesco a metterlo qua che qua mi dava due ah quattro perfetto se lo metto qua quattro anche qui eh vabbè allora mettiamolo qua che è un attimino più vicino ok lo mettiamo qua benissimo e ovviamente devo mettere quello per i nostri worker quindi quello dei worker li possiamo mettere magari qua sotto che così iniziano a lavorare si potrebbero anche metterli al contrario magari però vabbè non so dove sia l'entrata e l'uscita se sia indifferente comunque li mettiamo qua ok in questo caso devo fare 24 batterie e 25 eh fibre di vetro quindi come dicevo ragazzi questa ehm diciamo questa modalità che ho scelto è quella appunto a missioni quindi dobbiamo fondamentalmente completare i livelli con ehm varie ehm richieste del livello stesso ma penso che ci sia spero anche la modalità libera in cui possiamo appunto eh colonizzare Marte eh costruendo le cose un po' come ci aggrada ok allora adesso mettiamo questa eh con i pannelli solari che ovviamente ci serve per fare le batterie e dobbiamo arrivare a 25 quindi mi sa che ne devo mettere due per cui facciamo così perfetto e infatti anche questo livello è abbastanza semplice e l'abbiamo eh completato vabbè vediamo il prossimo ragazzi poi torniamo eventualmente nel menu e vediamo se eh riusciamo a eh trovare magari appunto una ehm come si dice una modalità eh libera anche se come detto non so se ci sia cacchio qua ne vorrei beccare sei ma non me lo fa costruire il maledetto qua ne prende solo tre ah beh lo posso mettere qua però butto via uno di questi e mi girano un po' le balle però eh vabbè mettiamolo qua mettiamolo qua oh adesso abbiamo anche l'alluminio che eh infatti ho devastato quindi in realtà ne abbiamo solo uno però eh diciamo abbiamo solo un giaccio no col cacchio cosa sto dicendo questo qua dove ce ne quattro quindi questo lo mettiamo eh sicuramente qua poi andiamo a prendere questo eh qua però ne prendo solo due vabbè senti questa te la metto qua è un po' più lontana ma fa niente poi ti metto ovviamente eh le solite casupole dei nostri lavoratori perfettissimo ok diciamo che ne mettiamo ah non mi ci sta questa no questa qua mi distrugge tutto quindi niente vabbè adesso te ne metto tre e va bene così vediamo se poi ne servono altre e andiamo a mettere ovviamente i solar ok sicuramente una qua e sicuramente una qua ok eh quindi devo mettere quelle per il water ok water water la devo mettere sempre qua ok quindi posso mettere questo qua che me ne da 10 ok e mo però ne devo mettere un'altra e posso mettertela qua dai possiamo mettertela qua che te ne da 20 perfetto perfetto e poi mi servono eh tre plant di alluminium processing quindi ne devo mettere tre che processano l'alluminio eh sì solo che è un bel casino vabbè qua devo distruggere per forza questo per forza di cose e vediamo se ce ne sta un'altra sì la posso mettere qua però ok buona perfetto e ce l'abbiamo fatta a finire il livello ok ma se faccio play on ah mi fa comunque andare avanti ok guardate che figata che usano i mezzi usano i mezzi per spostarsi da una parte all'altra ecco a me piacerebbe ovviamente ah qua non c'è il tizio perché devo mettere altre casupoline perché se no non bastano ovviamente i lavoratori eh mi piacerebbe che invece nella versione diciamo libera eh del gioco ci fosse la possibilità per l'appunto di ehm costruire piano piano tutte queste cose anche magari un'azienda insomma una fabbrica che fa i veicoli e tutte queste cose qua quindi spero che poi eh la versione eh diciamo finale sia effettivamente così eh vediamo un attimino il nuovo livello se ci fa fare qualcosa di nuovo perché da qua qua abbiamo una marea di roba da fare ok abbiamo una marea di cose da fare e siamo su un terreno decisamente più ampio però facciamo così proviamo un attimino andare al main menu perché voglio vedere se eh ah no ok lo scenario sì ci sarà ma non è attivabile purtroppo ehm diciamo così in ehm in questa in questo prologo quindi probabilmente nello scenario potremmo scegliere eh penso delle zone specifiche di Marte dove andare a terrare dove da lì partire da zero con la nostra eh colonia quindi qua più che altro secondo me ci fa vedere eh è quasi una sorta di tutorial questa campagna per farci vedere man mano tutte le varie eh tutte le varie strutture perché poi sì qua abbiamo la tre ok che dove sono arrivato ma la quattro non so se me la fa fare la quattro continua mi fa fare da questa vediamo qual è che non mi ricordo ah sì ok questa devo fare finish game e fare eh next level ok si devo fare next level e quindi andare poi nel livello successivo che era questo quasi con tutta la roba ok eh quindi qua abbiamo la plant nursery ok la farma va bene e quindi abbiamo tutta la parte dell'agricoltura dove infatti dovremmo poi produrre semi produrre cibo e e quant'altro quindi è interessante devo dire eh mi sta intrigando questa cosa mi sta comunque intrigando perché ripeto pensando di partire da zero eh e andarsi a costruire tutta insomma tutta la la nostra eh colonia su Marte non sarebbe assolutamente male eh non sarebbe davvero male qua volevo capire cosa mi dava eh per fare le piante ma qua è zero da per tutto aspetta plant farm forse sarà prima la plant nursery credo credo sia prima la plant nursery che devo fare immagino ero curioso vabbè facciamo un attimino anche questa giusto molto alla veloce qua possiamo mettere questo posso mettere questa qua che non mi distrugga il deposito ovviamente perché mi serve questa qua praticamente mi va a fare i semi ok con i semi eh ah mi manca però quell'altra adesso eh allora aspetta dove cacchio sta mi manca mi manca questa ok vediamo se trovo una posizione dove non mi vado a distruggere però quell'altro deposito e se no la piazzo qua eh qua prende quattro perfetto e non mi distrugge niente ottimo quindi questa la mettiamo qua così abbiamo eh il filo di vetro insomma quel cavolo che è ok eh dopodiché devo fare due plant nursery ok quindi vediamo di farne anche un'altra qua va bene poi vediamo un po' intanto devo fare i solar e quelli vabbè ce li possiamo fare tranquillamente qua ok metterei qualche altra casupolina eh cacchio qua c'è una marea di giacimenti ma andarli a prendere non sarà facile ah ma posso farli anche all'interno ok pensavo di no pensavo di no invece sì si possono fare ottimo buono buono così almeno siamo a posto ok in realtà qua abbiamo tutto mi manca la farm e mi manca il plant field quindi i campi per cui vediamo un attimino la farm eh beh ma se io lo faccio qua poi dopo dovrò andare a mettere i field dopo immagino eh credo eh quindi se io metto perché qua non ho giacimenti ovviamente che mi danno piante non credo che serva nulla eh non so se prima devo fare i campi o eh cos'altro vabbè io inizio a fare magari due campi così ah cinque ne devo fare addirittura ok allora li possiamo mettere così sto deposito qua lo distruggo e chi se ne frega e qua mettiamo ah ok sì infatti come immaginavo quindi prima si fanno i campi ok e poi si mette la farm tutto attorno ok molto carina questa cosa molto carina molto carina e anche questa l'abbiamo fatta quindi sì la campagna secondo me proprio per un eh una sorta di eh tutorial eh dove andiamo a produrre appunto cose sempre diverse infatti qua adesso dobbiamo fare ad esempio l'ossigeno eh la farm dell'ossigeno e i soliti campi quindi qua eh insomma con questa campagna praticamente il gioco ci fa vedere eh come si fanno tutte le varie risorse eh va bene ragazzi però io direi che per il momento per il momento mi fermo qua con questo titolo ehm è interessante se volete se volete il prologo lo possiamo finire tanto vedo che salva comunque la partita quindi partiamo direttamente dal quinto scenario e andiamo a farci eh anche gli ultimi tre eh eventualmente in un nuovo video di approfondimento così da vedere anche eh il discorso dell'energia eh della città e degli ingegneri perché ripeto da come ho visto su steam il titolo sembra essere molto eh approfondito da questo punto di vista e quindi eh sembra dare la possibilità di creare appunto una gran bella colonia su Marte e potrebbe essere proprio per questo appunto eh un gran bella city builder quindi voi fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti come sempre lasciate un sacco un sacco di like e condividete per l'appunto commentate iscrivete al canale se non siete iscritti e per chi vuole dare un contributo a un credito al canale come sempre vi ricordo che potete farlo tramite eh gli abbonamenti di youtube o il tastino grazia di sotto di ogni mio video detto questo giovinotti io vi ringrazio di sotto ci becchiamo nei prossimi gameplay ciao belli